Raccontare la storia della regione attraverso i dati pubblici è l'obiettivo di Piemonte Visual Contest, concorso per designer, sviluppatori, scuole e aziende, realizzato dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con il consorzio Topics. Il concorso, che prenderà il via a settembre, si divide in due categorie, infografica e visualizzazione dati, e premierà i migliori tre lavori di ogni categoria. Un concorso per studiare l'attività della regione attraverso i dati liberi e lasciati. Quali sono gli obiettivi del concorso? Gli obiettivi del concorso vogliono essere quelli di utilizzare la visualizzazione, quale infografiche e data visualization, per capire maggiormente il significato che i dati resi disponibili dalla regione vogliono esprimere. Con l'utilizzo degli Open Data per elaborare le analisi, il Consiglio intende mostrare alla società il valore del patrimonio informativo pubblico rilasciato dalle amministrazioni. Il Piemonte è da sempre un'eccellenza in questo settore. Lorenzo Benussi, il concorso utilizzerà i dati liberi e rilasciati alla regione perché è importante che le amministrazioni facciano una politica di Open Data. Open Data significa mettere a disposizione i dati delle amministrazioni, i dati anche dei cittadini a tutti, per facilitare una maggiore trasparenza delle amministrazioni, incentivare la collaborazione e la partecipazione dei cittadini. Per cui è importante perché ogni cittadino in questo modo può sentirsi protagonista.